Benvenuti a una nuova intervista dell'agenzia Italpress. Siamo con Mario Alvano, segretario generale di Anci Sicilia, l'associazione dei comuni dell'isola. I comuni svolgono un ruolo fondamentale nell'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza, però proprio dagli enti locali è stato lanciato un allarme per l'attuazione di questo piano. Di che si tratta nel dettaglio? L'allarme attiene alle difficoltà che ci sono nelle diverse fasi per l'utilizzo di questi fondi, a cominciare dalla progettazione e poi, visti anche i tempi stretti, nelle fasi del monitoraggio, della realizzazione delle opere, del monitoraggio e della rendicontazione. E' tutto il ciclo a rischio perché i tempi sono stretti e perché partiamo da una condizione in Sicilia e forse più in generale nel mezzogiorno di estrema criticità. Le difficoltà finanziarie condizionano fortemente la possibilità di assumere personale e quindi ci troviamo con uffici sguarniti di personale. Pensiamo agli uffici tecnici, agli uffici finanziari, ma questo vale anche per altri settori tipo i servizi sociali. Questo è un dato di partenza che ovviamente compromette la possibilità di realizzare iniziative ulteriori. Quando parliamo di PNR parliamo di qualcosa di più, parliamo di investimenti ed è evidente che se io già faccio fatica a gestire le funzioni e a derogare i servizi, avrò ancora più difficoltà a gestire gli investimenti perché comunque vanno programmati, vanno gestiti, vanno seguite tutte le fasi con quale personale. Il governo per ovviare a questo problema ha attivato un portale, Capacity Italia. Qual è la risposta dei comuni? Dal vostro osservatorio c'è un buon funzionamento di questo strumento o ci sono delle criticità anche su questo punto? Dobbiamo essere onesti. Il governo ha messo in campo diverse iniziative, anche con la possibilità di assumere a tempo determinato delle figure a tempo determinato. Ha realizzato questo portale che peraltro è popolato da professionisti qualificati che vengono dal mondo di cassa, depositi e prestiti piuttosto che da Invitalia. Quindi si preannuncia come un'occasione importante per poter definire quei nodi che caratterizzano il percorso per la realizzazione degli investimenti. Il tema vero è che tutte queste iniziative, in alcuni casi importanti, sono un po' un modo di sperimentare di volta in volta, ma è evidente che non possono risolvere i nodi strutturali che vengono molto prima del PNRR e che incidono però direttamente dal PNRR. Anche perché la situazione nel nostro paese è diversificata e quindi è evidente che quello che si vive al centro-nordo è molto diverso e le opportunità messe in campo dal governo al centro-nordo che parte da una struttura amministrativa di qualità possono essere utilizzate a pieno. Da noi le cose sono diverse. Proprio per questa differenza di cui parla lei c'è il paradosso che col PNRR si aggravi e si ampli il divario tra centro-nord e sud. C'è questo rischio? Quanto è concreto e quali sono le vostre proposte per evitare che si avveri? Il rischio è concretissimo. Il rischio in qualche modo è già una realtà che osserviamo da oltre dieci anni a causa di un sistema di applicazione del federalismo fiscale non del tutto soddisfacente per essere molto diplomatici. In realtà è gravemente lacunoso e ingiusto rispetto agli squilibri territoriali. Abbiamo in maniera semplicistica detto ai territori di gestirsi con le risorse che producono sapendo benissimo che i territori sono molto diversificati e da un punto di vista della capacità fiscale. Pensiamo alle aziende presenti in un comune siciliano medio e a quelle presenti in province quale Milano. È una base di partenza totalmente diversa. ma non basta. A questo si aggiunge anche una struttura amministrativa che da noi è carente storicamente, tant'è che si parla di capacità amministrativa e di programmi che incidono proprio su questo. La somma delle due cose ha determinato nel tempo un allargarsi della forbice. Abbiamo di fatto avuto una difficoltà finanziaria prolungata. Oggi ci sono una serie di esplosione di crisi nei comuni, dissesto, predissesto, comuni strutturalmente difficili. Questo a sua volta è inciso, per scelta legislativa opinabile, sulla possibilità di assumere personale. I comuni possono assumere personale se sono sani finanziariamente, se hanno risorse da spendere. Quindi cos'è accaduto negli ultimi anni? Il centro-nordo. Sono state fatte assunzioni. Questo meccanismo è stato premiale. I territori sono riusciti ad andare in un'altra regione, ad andare avanti, a programmare. Ha creato un circolo vizioso invece al sud, ovviamente. Al sud ha determinato un effetto veramente negativo perché, come dire, passando da una finanza derivata e quindi da risorse certe che venivano dallo Stato delle Regioni a un sistema di fiscalità locale precario, abbiamo visto una serie di problematiche che sono in parte quelle che dicevo e che oggi riguardano direttamente il PNRR, che è stato concepito, come spesso avviene in Italia, con una logica più adatta all'organizzazione dei comuni del centro-nordo e quindi immaginando che negli enti locali si fosse fatto già un'opera di programmazione, di pianificazione rispetto ai potenziali investimenti e che quindi bastasse semplicemente che arrivassero risorse perché potessero essere spese al meglio. Mancano i passaggi della pianificazione, della programmazione e mancano le figure per utilizzare queste risorse in una logica coerente. Questo è un problema che riguarda il PNRR ma riguarda in generale l'utilizzo dei fondi e se non si mette mano con precise scelte legislative a questo andremo sempre, come dire, a compromettere la possibilità di sviluppo dei territori. Io penso che in Sicilia abbiamo 4 milioni e 800 mila abitanti. Quando studiavo geografia alle elementari ricordavo la regione siciliana con molti più abitanti come la seconda regione... C'è lo spopolamento delle aree interne... E non solo delle aree interne, perché questo non lo diciamo tanto. Lo spopolamento riguarda anche le grandi città, riguarda Palermo, riguarda Catania. È un fenomeno grave e inarrestabile che in qualche modo certamente non è stato favorito da queste politiche sulla fiscalità e rischiamo di non recuperare con gli investimenti del PNRR. Ringraziamo Mario Alvano e vi diamo appuntamento alla prossima intervista dell'Agenzia Italpress.